Peggy's 16 Ci serve aiuto. Sono un bravino, eh? Tu non sai con chiavetà che fare. Sefirot! Volete la guerra? Accontentati. Ho più tre? Certo! Uno, due, tre! No! 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 Le loro abilità avranno infinite applicazioni nel mondo reale. Per fini militari. Non hai idea di cosa hanno intenzione di farti? Ascoltami. Infatti è per questo che mi trovo qui. Non sai niente su ciò che verrà. Cosa verrà? La fine del vostro mondo è l'inizio del mio. È più forte di ognuno di noi. Ma non di tutti noi insieme. vince che sopravvive. Non possiamo fermarti. Andiamo! E ti salta in mente, non ce la farai mai in quel modo! È vero tutto questo? O sta cadendo dentro le mie testa? N'è passato di tempo. Cloud. La volata non è finita. Vai, amico! Tutti abbiamo dei segreti. Quelli che nascondiamo. E quelli che ci vengono nascosti. Noi possiamo cambiare il mondo. Editoing. L'è, non ci lo vuole. Come? L'è. La prima. ли? Qua.